Avevano realizzato un vero e proprio impianto a ciclo completo per la produzione della marijuana, dalla semina alla crescita della piantagione in serra fino all'essiccamento e al confezionamento della droga, il tutto allestito all'interno di un capannone della zona industriale di Vaiano. L'attività, messa in piedi da sette cinesi originari del Fuzhan, tra i quali una donna, è stata però smantellata ieri sera dai carabinieri del nucleo investigativo che hanno messo a segno un blitz all'interno del capannone, sorprendendo alcuni orientali mentre erano intenti a curare le piante. Per tutti e sette è scattato l'arresto. Le piante sequestrate dai carabinieri sono circa 5.000 ed è la prima volta, secondo i militari, che un gruppo di immigrati cinesi si rende responsabile di questo tipo di coltivazione nell'area pratese. Il capannone, preso in affitto dalla fine dello scorso anno, era stato individuato e scelto in quanto particolarmente protetto da possibili occhi indiscreti. Infatti, l'unico ingresso dello stabile è protetto da un cancello che era costantemente chiuso. Tutte le vetrate, comunque dotate di inferriate, erano state poi coperte con teli e buste in plastica di colore nero, al fine di garantire l'assoluta privacy delle operazioni che si compivano. All'interno, oltre a un dormitorio stabile di almeno tre persone, il grosso dello spazio era stato attrezzato ad arte per l'espletamento a ciclo continuo della coltivazione ed essiccazione della cannabis indica al fine di produrre ingenti quantità di marijuana. I locali della Serra erano dotati di un sistema di illuminazione artificiale, costituito da quasi 200 lampade a vapori di sodio, idonee a simulare la luce solare, nonché di un sistema di aereazione, umidificazione e ventilazione. Nell'edificio era inoltre presente in grande quantità tutto il necessario per la cura e gestione delle piante, utensili vari, terriccio, fertilizzanti, antiparassitari, nebulizzatori e vasi di differenti dimensioni, nonché il materiale predisposto per la pesatura ed il successivo confezionamento del prodotto finito.